Un bambino di 6 anni, ma anche un cane di grossa taglia, che erano rimaste intrappolate dopo una lunga passeggiata sulla spiaggia di Prunini a Portoferraio, Isola d'Elba e impossibilitate a tornare indietro a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine, sono state soccorse dai Vigili del Fuoco. A partire dalle 17.50 di ieri, sono stati impegnati nel recupero dei quattro raggiunti a piedi lungo la costa, con mare mosso e poi recuperati dall'elicottero della Guardia Costiera. Le operazioni si sono concluse intorno alle 21.00. A meno di dieci mesi dal brutale pestaggio, compariranno il prossimo 15 dicembre in aula, le tre persone accusate della spedizione punitiva nei confronti di Martina Mucci. Cameriera 29enne, picchiata e sfregiata, la notte del 21 febbraio, nell'androne del palazzo in cui abita, alla Pietà a Prato, mentre rincasava dal lavoro. Il sostituto procuratore Valentina Cosci ha chiesto e ottenuto dal GUP Francesca Scarlatti il rito immediato per l'ex fidanzato di Martina, butta fuori 41enne Emiliano Laurini e per i suoi complici, il 19enne Kevin Mingoya e il 21enne Mattia Schininà. I tre sono tuttora sottoposti alla misura cautelare. Questo spiega la possibilità di ricorrere al rito immediato che di fatto accelera l'iter processuale saltando l'udienza preliminare. Due proposte di legge sulla sicurezza stradale contro l'utilizzo degli smartphone alla guida e per l'obbligo di sensori salvavita sui mezzi pesanti. Questi gli interventi presentati a Firenze dai deputati del PD Federico Gianassi e Andrea Casu, insieme all'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Giorgetti, e alle associazioni che da tempo si battono su questi temi. Obiettivo delle proposte di legge inasprire le pene per chi causa un incidente perché guidava mentre interagiva con il telefonino e installare su tutti i mezzi pesanti i dispositivi per salvaguardare pedoni e ciclisti. Come Regione apripista, se viene approvata la manovra finanziaria con le anticipazioni di questa settimana, noi possiamo utilizzare queste risorse che avevamo stanziato, 233 milioni nell'arco di sei anni, rimodulandole per estendere l'accesso gratuito agli asili nido, ad affermarlo il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Attualmente il corpo della Polizia Municipale è formato da 730 persone, il dato è molto inferiore rispetto a quello del passato. Il Comune sta lavorando sul nuovo concorso che dovrebbe bandire a breve e che quindi prevedrà il cospicuo ingresso di altri agenti. Dovremmo ritornare ai numeri del 2019, quindi circa 900, ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale di Firenze, Francesco Passaretti, in occasione della cerimonia per la festa della Polizia Municipale, oggi a Palazzo Vecchio. È di 366 mila 180 euro lo stanziamento deciso dalla Regione a favore di 62 comuni di tutte le province della Toscana per finanziare i progetti che hanno presentato per combattere il cyberbullismo. Si tratta di uno stanziamento importante attraverso il quale prendono il via una serie di progetti per prevenire uno dei fenomeni più odiosi e pericolosi del quale purtroppo cadono troppo spesso vittime, i giovani. Il coro Palestina Libera, alzato su intorno al ventesimo minuto del primo tempo della sfida tra Livorno, che milita in serie D, e il Tau, tre grandi striscioni che componevano la frase in guerra, nessun civile dovrebbe morire né per mano di un terrorista né di un esercito regolare, ma anche quattro bandiere della Palestina. Così ieri per una decina di minuti si sono levate le voci della curva nord dello stadio Armando Picchi di Livorno. Non è la prima volta che la curva del Livorno lascia partire questo coro, così come da sempre le bandiere della Palestina spuntano durante le partite degli Amaranto. Una mostra agli uffizi di Firenze celebra l'impegno sul fronte iconografico della carriera del noto cantautore Paolo Conte, visibile una selezione dei suoi 69 disegni, tra i quali molti inediti mai esposti finora, realizzati dagli anni 70 ad ora. La rassegna prosegue fino al 7 gennaio nelle sale dell'arte grafica della Galleria degli Uffizi. Al termine dell'isposizione, Paolo Conte donerà al museo l'autoritratto di un pirla del 1978, entrando a far parte della collezione di autoritratti del museo. Ultimo allenamento per gli azzurri a Coverciano prima della partenza, che è oggi per Londra, dove domani sera affronteranno l'Inghilterra per le qualificazioni europee. Gruppo al completo, a disposizione di Spalletti, che prima della sessione di lavoro ha chiamato in campo tutti i giocatori, lo staff e i collaboratori, riunendoli in un angolo del campo. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Molto nuvoloso durante la notte, possibili precipitazioni sulle zone più a sud della Toscana. Ampie schiarite in mattinata, ma di nuovo poi aumenterà la nuvolosità dal pomeriggio sera. I venti sono deboli o moderati, i mari poco mossi, e infine le temperature minime in lieve calo e massime invece in lieve aumento. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti, arrivederci!